In pochi giorni la sua carriera è cambiata completamente, la prodo alla Juventus e l'esordio da titolare in un mondiale, facile per un calciatore sentirsi arrivato non per Simone Pepe che preferisce rimanere con i piedi per terra. Devo migliorare assolutamente, soprattutto in fase conclusiva, ecco come dicevo due anni fa tagliavo poco verso la porta, adesso sto cercando di migliorare in quello, anche in fase conclusiva di essere più incisivo. Una famiglia semplice alle spalle, un padre che lo ha sempre aiutato ma che alla fine di una partita non gli ha mai detto bravo, neanche al telefono l'altra notte dopo l'ottimo debutto con il Paraguay dove è stato uno dei migliori. Mi ha detto hai fatto un tiro e un altro po' non comporta, grazie, è partita subito bene la telefonata. È cresciuto con De Rossi ma la Roma non ha più creduto in lui e lo ha mandato via, adesso la sua rivincita se l'è presa ampiamente senza rancore però, meglio pensare a conquistarsi un posto da titolare nella prossima partita. Non ho un traguardo, devo pensare a questo e di traguardo non posso pensare a quello dopo, fammi pensare prima a questo.